Stavo seduto perché devo arrivare a Roma, non c'ho i piedi e dormo fuori, a me la multa mi hanno fatto, perché chiedevo le lemosine, non c'ho i piedi, dormo fuori e non mangio da ieri a mezzogiorno e mi hanno fatto la multa, a me e a lei 400 euro, eccola qua la multa 400 euro di multa, ma si può? 200 a lei e 200 a me, Carone Antonio è questa Cabras Bruna Perché a me mi ha fatto il bollettino, anche a te Pure a me si, per andare nel bagno Ma ti pensi che io pago pane anche? Sono a mezzo alla strada cosa pago?